E' stato pubblicato il decreto numero 103 del 28 dicembre del 2018 relativo al piano regionale di programmazione della rete ospedaliera, in cui è resa nota ufficialmente la richiesta di deroga alla chiusura dei punti nascita di Polla, Sapri e Piedimonte Matese, da parte della Regione Campania al Governo. La Regione, si legge nel documento, ripropone nuove istanze per la valutazione della deroga e punti nascita di Piedimonte Matese, Polla e Sapri, volontà già anticipate ai ministeri nella seduta di verifica del 22 novembre scorso. Viene poi riportata nel piano la programmazione dei punti nascita pubblici e privati in provincia di Salerno. Tra quelli pubblici in deroga figurano l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, l'ospedale Immacolata di Sapri e Luigi Curto di Polla. In quest'ultimo, stando alle dichiarazioni del primario di ginecologia del dottor Francesco De Laurenti, dall'inizio dell'anno ad oggi, 15 gennaio, sono nati 13 bambini e ricordiamo che il primo nato dell'anno è venuto alla luce il 5 di questo mese. Anche se la media delle nascite restasse costante, saremmo comunque ben lontani dai 500 parti annui utili affinché il punto nascite di Polla possa rimanere aperto senza preoccupazioni di sorta. Quindi, come è stato più volte detto, è una situazione solo rinviata, anche perché nello stesso piano ospedaliero, quando si riportano le caratteristiche ed è idea di primo livello e Polla lo è, elencando le specialità di cui sono dotati tali presidi, si parla di ossetrice e ginecologia condizionandola al numero di parti annui. Quindi il fatto che Polla sia ora uno dei sei idea di primo livello non è garanzia di nulla. A conferma di ciò sempre il documento della Regione. Successivamente al parere espresso dal Comitato percorso nascite riporta, si procederà alla definizione della rete dei punti nascita classificati per livello di complessità primo e secondo livello, con relativo aggiornamento dell'offerta afferente alle discipline dell'area materno-infantile.